per il dove è la pezzone vai perciò non andare non vai è partita è partita svegliati da una persona che ti piace perché quando vai nella sala da padre non deve piacere la persona ma non la sala da padre non deve piacere la persona non ti si rifiute adesso un po' indifere perché lui ci deve andare o deve bagarre va bene 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 sei curioso di cosa ma l'uno dai fuori capito ebbè che mi fa quindi niente ok allora mettiamo le sedere le sedere come è il ciondolo dai svegliati scusate scusate scusate